Appello presentato dai legali delle Pussy Riot, le attiviste condannate a due anni di lavori forzati per blasfemia. Le donne potrebbero infatti rientrare nell'amnistia che il presidente russo Putin ha presentato alla Duma, la Camera Bassa, in occasione del ventesimo anniversario della Costituzione russa. Prevede il rilascio di condannate con bambini piccoli. Il caso di due Pussy Riot.